e invece poi purtroppo abbiamo un po il cancro secondo me di youtube italia con tutti sti ragazzini che portano la moto in città ed è qualcosa che assolutamente non riesco a capire si parlano magari anche a livello di quello che dicono è interessante può essere simpatico può far ridere questo non lo metto assolutamente in dubbio ma quello che mi lascia senza parole è che sembra che loro si divertino a portare la moto a milano a portare la moto a napoli a portare la moto a roma portare la moto a genova è qualcosa che non capisco c'è alla fine si va in città vai dritto ogni tanto metti la freccia che duco a dire ecco non capisco se sono veri i motociclisti penso di no ma azzardo questa cosa non sono veri i motociclisti ma hanno visto qualcuno che ha portato questo contenuto e si sono improvvisati così e non amando curve non amando l'adrenalina quello che fanno è andare in città al limite 50 vanno 70 e credono di star volare di che stanno volando personalmente il contenuto che non mi interessa mi sorprende che ci sia tante persone interessate a questo mi auguro che sia per le cose che dicono per le stronzate che dicono che sono simpatiche fanno ridere assolutamente e non per il fatto che che fai te e non per il fatto che che hai scassato hai scassato il c***o io cioè porca c***o sei pericoloso 70 solo per le moti ma io non lo so e quindi vabbè è finita tanto c'è la cittadina e niente per cui mi auguro di portare qualcosa di un po più nuovo mettiamola così mettiamola così un po più nuovo e quindi magari abbia abbia apprezzamento in italia dove in tutta onestà secondo me questo tipo questo tipo di questo tipo di contenuto manca o comunque diffuso veramente poco perché c'è principalmente questa categoria di moto viaggiatori o di ragazzini che registro tutto impenno perché le impennate sono bellissime e fatele nei campi per quanto mi riguarda con le dirty bike e liete e invece contenuti di gente che ama fare le curve che ama la moto secondo me ce n'è veramente poca in italia almeno o meglio ce ne sono tanti ma non portano questi contenuti e niente e niente questo è quanto adesso siamo a non so quale sia il paese però stiamo proseguendo il nostro giretto ogni tanto qualche curvetta poi intervallata dal paesino sentite me parlare che rompe i coglioni e così si va e così si va dice sui bambini che mangiano il gelato italianis ice se vi piacerebbe qua se scrivi italianis poi smek gut sembra che sia automatica la correlazione e invece no poi li porti a mangiare italiano nelle vere pizzerie in vere giulatterie ma è diverso dal no eh faccio che lo sa ciao ciao ragazzi ah l'MT vecchia grande beh veramente bella eh l'MT vecchia ah c***o ero ancora in cittadina vabbè niente godiamoci un po' di curvette ancora un po' di curvette ancora il limite è 60 mannaccia bello eh purtroppo è una strada che non conosco ma è la seconda volta che la faccio è passione è fina Grazie a tutti 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 Grazie a tutti